Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Oggi noi giochiamo a Roblox Dove dobbiamo scappare da una piscina Non si può andare a piscina? Ma si forse... Ah no! Eh io so... Ho già fatto l'uscita, levi dare lì dentro Ok, uno è già morto Perfetto Ma è facile però, con l'acqua... Prego No però alcuni sono piccoli Io sono morta Ma nemmeno, aspettami Aspettami Io ti vedo morta Dai però, ma vede Ma vede Cancella Dai però Ma nemmeno, non comprare una raga Un matto Ok? Ok? Matta! Sì Sono morta pure io Sì Io vedo Sì 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 Io aspetto cinque minuti e poi vado Ok? Sì Schiaccio il pulsante L'ho chiacciato Ehm... Come fa? Sì 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 L'ho trovata L'ho trovata Guarda Dai ti vengono a giungere Se ti vedo Vieni Guarda io sono qui Sì Sì Dove sei? Qui Ecco qui Ecco qui Ecco qui mi vedi? Sì sì Seguimi Qui? Qua? Sei trovata Ecco Oh Non andare Mi aspetti Perché sono morta Vai Aspettami Aspettami Ma io non ti Appettami Allora dove sei? Andiamo Hai visto dove sei? No dai Non c'è il checkpoint Aspettami Aspettami Stavolta aspettami Sì Aspetta Io lo so L'ho trovata Di qua Non è vera Aspettami Aspettami Ma sicura che sei lasciata Aspetta L'ho covata Covata L'ho trovata Volevo dire Scusa Allora non morire Adesso prendo il checkpoint Sì Non morire L'ho preso E l'ho preso Aspetta Ma andi qua c'è una strada Non è morta Di qua c'è una strada Shhh Ok 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 No aspettami Ani L'ultimo Ani aspettami No io non ti aspetto qui Vai vieni No io ti sto fettando Non è vero Sì guarda Aspetta No va indietro No Sì Sta a tenersi qui Vai vieni però Un attimo Ehm Vale vai Un attimo Spero non ci fettano un piccolo sacco Stata roba No Un attimo Poi ci sono Allora Allora L'impressione che mi vale in faccia Oh no How do I worry Is Do that Se la fai o no Ma tu senti il ciccio Che se muoio e brillo Allora vai dove sono io Allora vai dove sono io Qui Sì Ma guarda che so dove andare Hai visto Hai visto che ci fai anche Prima No adesso io non sono più Ah 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 E mi va tutto 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 Ma adesso adesso ho petta Mia ti ho petta Sì Ti aspetto Muori No D'era Ehm 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 Ma poi non l'ho neanche toccato Dai io sono qui Dai io sono qui Dai io sono qui Bla 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 Ti vedo di tutto Dai vai Ma poi io non lo tocco Cioè E' il gioco che dice Allora Calmo Le cose Disasterine Cosa sarà alla fine Vani Ok Una tua bocca che ti mangia tutta Te ne vai? Grazie Magari dopo c'è la bocca come Non mi ha fatto ammazzare Mi ha fatto ammazzare Tu Mi ha fatto ammazzare Doi Non ce la faccio più Guardi questo qui Questa qui Non so neanche se fanno il mouse Guarda Mi ha fatto ammazzare Mi ha fatto ammazzare Mi ha fatto ammazzare Tu Mi ha fatto ammazzare Finalmente ammazzare Se muori è la fine 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 Ma è facilissimo C'è anche un bambino di 3 anni riesce Tu no Io non sono più con te adesso Dai Io sono indietro 3 anni dopo Da sonno dopo Io arrivo Oh Intanto però Ciao T'ho presa Mamma Mamma Ma dove sta Oh Oddio stavo cercando il camion Ma io non ci vado È un cabinet Ah Ciao Ecco Buongiorno signor capitano Allora Diventati là Poi al sinistro Se non guardi giù Sei già morta Se non guardi giù Ma Io so dove andare Se non vai Io cerco facendo 100.500 volte Mamma mia Sono morta alle due Levitare è così Guarda Seguimi Guarda Guarda cosa faccio io Sì Ah Non lo sapevo fai Ma perché c'ho Oh ciao Ma che brutto che fai mamma mia Macellaro Macellario Sai che io mangio i porcini Mi Guarda questo signore Anni Ce lo sto facendo Sì Ciao Cos'è questa Oh my god No Questa la sto fare La sto fare bellissima La mamma mia stagita È quello È quello E io l'ho fatta Era quello Mi ricordo Non è quello Che bella pentola Ok Secondo me non è questo Qual è Aspetta Non andare avanti Perché se muori Muori Non è questo Quindi forse è questo Ma non è quello Grazie Anni Dai vai Aspettami però Io per poi L'improvviso l'ho fatta L'improvviso Che sei c'hai potta Non sono io Sì Sì Ti vedo lì Ma che Ah Adesso come domanda Ma Pinta Ce l'ho fatta Veramente Sì Però sta ferma Stai ferma Stai ferma No Attenta Attenta c'è lui Lui non ti mangia Tra un film No Io l'ho già fatto Ti mangia Io l'ho già fatto È vero È vero Guarda Guarda me Cosa fa Guarda Ti ha mangiato Ti ha mangiato Ti ha mangiato Si vede proprio che ti prendi Guarda Adesso ti prendi Guarda Se arrivi fino a lì Non mi ha preso L Non voglio andare Perchè 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 Guarda Dai Non mi ha preso Sì Vedi Ciao E se moriamo di più Non mori Perchè 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 Io l'ho toccato Adesso sono morta Ahahah Amore un cagnolino Che sei Ma a te i cani piacciono? No Ma Se no ti piacciono i cani Vai in prigione Perchè Perchè mi devo piacciono a tutti Credo Io l'ho vitto che hai toccato Sì Perchè Non me l'ho vitto E c'è una porta segreta Ma Lo sentiamo bella No Fatta Facciamo ora modo In vanna Ok Ok Oh ok vai dentro io sono già sua ma è facile guardali in alto in alto in alto in alto non ha mandato la bocca ma scusami ho capito ma la gente quando pensa a fare questi ah no no però se vuoi andare subito guardi un'acqua guardami non usci io vedo un coppo vera ma ti sposti dai guarda me dove sono guarda tu vediamo devi guardare giù io guardo giù ce le sto devi guardare giù sei capito se guardi giù ce la fa il tesoro tesoro se guardi giù ce la vai guarda guarda giù le piccole si pregge oh mi manca la pizza e poi sono sulla pizza io pizza sono sulla pizza sono sulla pizza non ancora no no non ballarci anche se si faccia no 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 mi manca tanto appoggiù 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 io sono morta ma quando c'è una c'è una gola mi ha perso no 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 guarda me dove sono già no sono morta guarda ma non c'è neanche un jack ball questo metterà ecco una società che potrebbe portare ma running che leppi altetè ciò aspetta ma chi ce la farà prima vediamo chi vince tua mamma no io vediamo chi vince tua mamma non ci vince 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 adesso è un personaggio quello spostato e delicato non urlare che mi fa sconcentrare la mia cosa mi ha detto sulla mia acqua pizza la pizza no non ci credo oddio ma perchè dai 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 tu sei fatta? no dai 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 ma va dai 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 zitti zitti dai mamma mia ci ha ridito vieni anche la bocca ce l'ho bella bella io ho guardato giù ce l'ho fatta ma sai che guardare giù guardare su non cambia niente e c'è ancora una pizza oh oh oggi tanti si toggono poi questi rosa donda ma quando si toggono cosa succede? muori non è vero non succede niente è anche figo però vederli rosa troppo facile vero? si infatti guardate se ti togli dai mezzi forse anche io perché sono caduta anche io beh però dai quanto qui cura metti è facile vero? per quello fuzia invece quello con tutti i colori lunghi no sai che è fatto da poccieri? guardate che andiamo ma sai che a me non è successo mai niente ma niente io ce lo fa però aspettami si sono vicino a mio fidanzato che dopo andiamo in bocca sua sarà tutti i denti marci ho pregolato di aspettarmi ti sto aspettando guarda sono qui tolora ok vieni pizza bella 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 io cammino guardami guarda guarda me guarda me guarda come faccio io io faccio così guarda guarda me come faccio io guarda e io ce l'ho fatta perché ho fatto due sattivi e faccio così così io mi faccio per non andare attenta quanti si scivano come fai? prima oltre io sono matta io sono matta così signore scusi signore la pizzaiola è arrivato al forno ero lì e ce l'ho fatta però apertami no apertami oh brava si si ci avvado a chibarti si scusate cosa c'è? cosa c'è? sono matta non ero vera sei rata non ero matta no anche ero matta ero lì eh? anche ero matta oh ho visto una casa c'è una casa no che sta facendo a buio io sono fatta ti frutto ti ho fatto no anche ero matta anche io sono fatta qui aiii 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 cosa c'è lì? mh mh tu superata io ho superata si superata dino ancora ti ho superata aspetta aspetta mi sono usata la bocca aspetta ma aspetta aspetta mi però si prendo solo il check point aspetta aspetta ma dai si si ti stai spiegando ok ok adesso sono zitti ce l'ho facendo oh ci sono stati zitti e qua no e qua no e qua no ma qua no e come sei morto ragazzo no perché sei guarata morivo io io non sono morta sei che sei morta ti ho visto hai già visto ti ho visto ma se ne ammali sempre cosa succede? hai capito aspetta minuto te aspetta se no io ti ammazzo sai la vita non è dura e anche è facile sei morta? devi seguire me no ma 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 ce l'ho quasi scusa ma ma non volevi non sai che stai facendo un casino vai avanti con la sedia che sei se muori che hai fatto? avversami te avversami te io non gioco più con te molto bella l'abitante dai avversami vado a vincere il point no io vado a vincere si muore anche io vuoi vero si coppi che bello dipingo giù ma è troppo difficile infatti va adesso sono bravissima aspettami però si ah no stai meglio vestarmi e mi ricco i conti fino a 10 1 2 fino a 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 a un attimo aspettami si no valletemi oh my god yes dai però da modo sei ok avanti attenta se cadde alla fine però aspettami si ma se cadde alla fine aspetta se cadde alla fine attenta dai ti aspetto all'ultimo un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo ancora hai visto te l'avevo detto di prendere sto cia piaaaain cosa non volevo la marema ha muovuto penso aspettami ci sei? no ok no ma che si è avvocato anch'io ma cosa non mi dirà che abbiamo sbagliato tutto però abbiamo preso il check 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 ma perché non ci va dentro no non va dentro cioè non va dentro non va dentro è vero no 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 questa no no è no è no è c'è qualche problema almeno è dentro ricovaci riprovaci no riprovaci ma non è oh ce l'ho fatta sto andando dentro adesso arrivo anch'io aspetta ti sento oh devi andare dentro e nella bocca e lo so no nella bocca no le bicotto io ce l'ho fatto basta per tutti la bocca aiuta te l'ho detto prova genio aspetta che devo prendere il check point ok e adesso non ho preso il check point veramente no non ho preso oh no si le prese ma queste sono caccole ma non ho mangiato caccole ma questo cos'è aiuto ma cosa ho mangiato ma cosa mangia cioè nel mare ma io non l'ho toccato no ma cosa mangia mari mari mangia mangia il mare no magari questa è acqua poi dentro c'ha tutte le robe no questa è acqua però addio una una conchiglia fumo di caccia io ce l'ho fatto piccì 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 aspetta mia mia c'è io ti aspetto sempre il dedo che aspetta mia mamma mia sì dai cioè sei lì che ti io ti aspetto sempre e tu lì che non mi aspetto mai oh vieni vieni spero già averlo preso and look the way it's dead vado ci hai fatto no eh sì dai vanni aspettami sì ti aspetto un attimo se vuoi rispondi in dieta oh lo posso guardare guarda non guarda conta finalmente con gli occhi 3 4 5 è arrivata guardami che schifo cioè ma lo vedi so la cacca la cacca la cola questa ho capito cos'è ho capito ho pazzo cosa si è pazza non li dirò fino dai si è pazza è cacca io ce l'ho fatta ok allora allora io non ce l'ho fatta tu io sì guarda dove sono ma dove sono scusate gp oh io a te volto allora però non è palido o che c'è hai mi sa ahahahahaha un deux un da 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 ad saud conti oh u com vado a giù com mi iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like e andate a vedere andate a vedere il video che abbiamo fatto su Vanessa e Anastasia della sauna della sauna e va bene ciao ciao ciao